Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram in una selva oscura, è di fatto un verso della Divina Commedia ma purtroppo è anche un'immagine che rappresenta un po' la situazione italiana in lotta perenne, costante contro il coronavirus anche con qualche problema, soprattutto sulla campagna vaccinale che riguarda anche la nostra Toscana. Parleremo di questo perché oggi c'è stato un passaggio abbastanza importante da parte della Lega che chiede le dimissioni dell'assessore regionale alla sanità ma parleremo di molti altri temi visto che anche dalla Toscana per quanto riguarda alcune forze politiche, il Partito Democratico in particolare ci sono diversi movimenti che proprio da qui nascono e faremo questo ragionamento, percorreremo questa strada insieme a Federico Bussolini che è capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Firenze Buonasera, benvenuto Buonasera, buonasera a voi e buonasera anche in collegamento a Paolo Ceccarelli giornalista collega del Corriere Fiorentino Ciao Paolo, buonasera e benvenuto anche a te Buonasera a voi e a chi ci ascolta e ci vede Allora, vorrei partire da Bussolini proprio dal tema un po' della giornata perché in questi giorni si è parlato molto di Lombardia dei disservizi che ci sono stati sotto vari profili il modito anche del Premier Draghi rivolto alle regioni in generale a un'autonomia che evidentemente non ha funzionato sulla campagna vaccinale oggi la Lega prende posizione in Toscana perché e in che modo? Perché stiamo lavorando affinché aprile sia il mese della rinascita per la Toscana così come per il resto d'Italia che quindi si parli e si ragioni di aperture e l'elemento essenziale per far sì che si possa arrivare a questo traguardo questo obiettivo più che altro è proprio quello della vaccinazione e della campagna vaccinale abbiamo preso posizione contro l'assessore Bezzini chiedendone le dimissioni proprio perché in merito sia alle dichiarazioni del Presidente Draghi che sono nette e precise al di là del tentativo di disconoscimento che ne fa il Presidente Gianni e al di là anche di quella che è la vaccinazione degli over 80 che ci vede penultimi in Italia troviamo che il Presidente prima di tutto si debba scusare con i cittadini toscani per la figuraccia che rimedia la Toscana a livello nazionale per questo pessimo risultato conseguito a di là di questo poi i dati parlano chiaro il Gimbe del 19 marzo certifica il fatto che la Toscana è penultima in vaccinazione over 80 e soprattutto poi questa presa di posizione è data anche da un altro fatto la vaccinazione per categorie noi riteniamo che sia stata scellerata sia dal punto di vista politico quindi e di criterio dove è mancato il buon senso quando abbiamo visto vaccinare politici piuttosto che avvocati e quant'altro andando nello specifico con la questione Pfizer sono state vaccinate ovviamente delle persone che non avevano urgenza di essere vaccinate di conseguenza per gli over 80 troviamo una carenza di vaccini noi abbiamo dato ascolto abbiamo dato importanza anche comunque a tutta quella categoria di medici che svolgono un lavoro delicato ed essenziale non è colpa loro è colpa di chi prende le decisioni e quindi chi ha preso scusi le decisioni fino ad oggi come per esempio l'assessore è opportuno che oggi si rimetta e vada a casa senti Paolo volevo chiederti questa cosa perché poi alla fine evidentemente sul tema della campagna vaccinale mostra il fianco lo dicevo in apertura il tema di regioni che poi sono andate un po' da solo in ordine sparso nella scelta sulle categorie da vaccinare oggi insomma mi pare che il governo abbia intrapreso una strada ben più drastica anche come dire di imposizione in modo che si vaccini come dire per ordine d'età al di là delle categorie ovviamente dei più fragili però fino ad oggi effettivamente ognuno ha dato un po' per conto suo e la Toscana forse non ha dato uno dei migliori esempi ecco in questo si può dire ma non vorrei volare troppo alto perché i problemi di oggi anche dei toscani sono molto concreti riguardano appunto il sistema di prenotazioni che è andato in tilt per i super fragili le persone che hanno vulnerabilità e il caos diciamo sugli oltreottantenni che ricordavate in studio non vorrei volare troppo alto però l'avevamo già visto nella prima ondata con un altro governo con tutta la discussione seguita diciamo ai primi di PCM sugli rallentamenti delle prime misure di Conte regione per regione poi addirittura in alcuni casi ordinanza per ordinanza sindacale ma per restare nel tema regionale vorrei dire che ecco se una cosa c'è che la pandemia ha mostrato sono tutti i limiti del titolo vinto della Costituzione italiana riformato nel 2001 da un governo di centro-sinistra che mi dispiace parlarne non voglia sembrare una provocazione a Bussolin ma che lo fece per rispondere anche alle istanze portate avanti dalla Lega sul federalismo ma non è che voglio tornare al 2001 voglio semplicemente dire che per circa 20 anni noi abbiamo messo nel frigorifero il problema delle autonomie e del federalismo l'abbiamo risolta all'italiana una riforma pasticciata mettendo a concorrenza una materia come la salute che poi diciamo così oggi si vedano gli effetti ovviamente in un mondo totalmente diverso a quello del 2001 e quando nemmeno ci si immaginava una pandemia del genere però si doveva fare i conti con il presente e questo lo dicevo non volevo tirarla troppo alta però siccome poi dovremo iniziare a pensare al mondo dopo Covid spero velocemente che diventi realtà questa è una riflessione da fare senta Bussolin dov'è che secondo lei come dire ha funzionato meno la macchina vaccinata perché ad esempio su altre questioni insomma poi anche qui ci sono le posizioni in campo oggi proprio questa mattina il presidente Gianni ha annunciato che molto probabilmente la zona toscana resterà arancione anche la prossima settimana ma in realtà la mappa poi dimostra che ci sono tante zone della nostra regione che sono rosse però in un modo o nell'altro nell'ottica di cercare di mantenere la Toscana il più arancione possibile diciamola così quella strategia evidentemente ha dato i suoi frutti poi qualcuno chiederebbe invece come dire di andare rossi subito stare rossi due settimane e cercare di ripartire meglio dopo ma insomma da quel punto di vista ha funzionato cos'è che invece non ha funzionato sulla campagna vaccinale evidentemente al di là della scelta appunto di categoria come diceva a cui forse è stato dato un privilegio e una preminenza maggiore insomma la zona rossa e quindi il blocco di qualsivoglia attività non urgente o non essenziale ha senso se la campagna vaccinale viene portata avanti con ritmi serrati e quindi brevi nel tempo di conseguenza fare una una zona rossa a macchie senza però portare a termine questo obiettivo diventa pressoché inutile diciamo che sul principio siamo tutti d'accordo cioè localizzare ecco la zona rossa piuttosto che farla a livello nazionale permette di digerire meglio questa imposizione soprattutto a comuni che sono più virtuosi in senso ovviamente non positivo o negativo del termine ma in termini di contagi dall'altro lato dov'è che è mancata la campagna vaccinale prima di tutto sugli over 80 ascoltando i medici di base quindi i medici di famiglia la critica più grande che viene mossa non è tanto quella relativa alla burocrazia che si devono sorbire ognuno cerca di fare la sua parte ma quella che ci siamo imposti quindi di ritmi serrati con sei dosi di vaccino a settimana per ogni medico di famiglia quando un medico di base quindi quello che è arrivato anche dall'approvvigionamento dei vaccini va detto attenzione però il vaccino Pfizer in questo caso precedentemente è stato somministrato per esempio a persone che non avevano bisogno del vaccino Pfizer se messi in comparazione con chi disabili fragili e altri anziani invece avevano motivi di urgenza di averlo giustamente chi non ha sentito amici o parenti che dicono ma scusate io ho l'asma l'altro magari mio amico sta facendo una cura particolare che abbassa le difese immunitarie e quant'altro e poi ci troviamo magari gli psicologi vaccinati perché rientrano nel ramo del sistema sanitario ci ritroviamo magari persone che non hanno contatti con il pubblico che sono vaccinati con Pfizer ecco questa classificazione ha rallentato anche la pagina vaccinale tra l'altro Mussolini ha fatto giurisprudenza però gli avvocati bisogna essere onesti intellettualmente si sono vaccinati con AstraZeneca cioè faccio un esempio il capogruppo del partito democratico che è un medico afferente al campo dello sport si è vaccinato subito con Pfizer è evidente che magari c'erano persone che avevano un'urgenza particolare e prioritaria rispetto al capogruppo del PD che per l'80% del tempo fa il capogruppo del PD queste sono considerazioni soggettive ovviamente che chi pone una scelta deve fare Ceccarelli pone un tema interessante apro e chiudo la parentesi io penso che la questione sia anche da imputare alla questione dei piani pandemici regionali è chiaro che in un tempo di guerra quindi ci si ritrova a fare scelte sconclusionate o raffazzonate e il risultato è un gran caos è ovvio Paolo volevo chiederti una cosa a parte ovviamente se vuoi rispondere a questo intanto un commento anche da parte tua insomma sulla strategia anche delle microzone rosse legate però appunto a un piano vaccinale che in alcune evidenze stenta un pochino e dall'altra parte però volevo chiederti anche questo perché in altre regioni si sta verificando anche dei problemi di operatori sanitari che hanno deciso di non vaccinarsi quindi Novax o chiamateli come volete e poi finiscono per contagiare qualcun altro in Legura ad esempio si pensa però servirebbe un provvedimento nazionale probabilmente a un obbligo vaccinale almeno per gli operatori sanitari è secondo te qualcosa che di cui anche la Toscana avrebbe bisogno diciamo così sì secondo me sì lo dico come dire conscio che questo può sollecitare può sollecitare gli istinti peggiori di Novax ma se uno io non parlo di tutti attenzione perché uno si autodetermina cioè non è che sono per lo Stato che entra in camera tua e ti fa la puntura tanto per essere chiari ma se uno fa un lavoro così delicato come fermiere medico ma anche i famosi OS che fanno un lavoro straordinario e peraltro c'è anche da dire che spesso sono pagati poco però hanno tutto ciò non può voler dire aprire la porta a non faccio il vaccino e spiego perché perché sono persone che hanno sono a contatto giornalmente con tante altre persone molte delle quali sono anziane sono fragili quindi mettano a rischio gli altri ora poi se uno non si può vaccinare perché pensa che Bill Gates ci farà i soldi è legittimo però francamente per chi ha una responsabilità diciamo così professionale di assistere le persone credo si possa pensare a un a un meccanismo io non è che dico licenziateli però un meccanismo che è a tutela degli assistiti voglio dire se uno non si vuole vaccinare questo diciamo opinione mia è un terreno molto scivoloso naturalmente perché ci sono le libertà personali quindi non è che io sto invocando un TSO però bisogna fare questa valutazione rispetto alla Toscana allora due cose zone rosse zone arancioni eccetera è vero fin qui la strategia toscana diciamo così ha retto però bisogna capire anche di cosa parliamo cioè io a volte ho la sensazione che i governatori Gianni veda la zona rossa piuttosto come la zona arancione come o meglio la zona rossa come una sorta di retrocessione politica della Toscana o del suo ruolo ma non è così cioè si può discutere diciamo di come la Toscana cerca di contrastare i contagi ma non è che se noi andiamo in zona rossa come dire e Gianni scende nella serie B dei governatori invece per esempio lo dico oggi ho visto che ha detto ce l'abbiamo fatta siamo rimasti in zona arancione siamo tutti contenti però parliamoci chiaro bisogna parlare il linguaggio della verità sempre in particolare in un momento così difficile cioè è evitata per poco la zona rossa e la evitiamo per un soffio vediamo la prossima settimana e in ogni caso per non giocarsi come dire la serie A o la serie B delle zone colorate ma per uscire finalmente si spera il prima possibile da questo incubo la prima cosa sono i comportamenti rigorosi a livello personale e naturalmente dall'alto diciamo dalle regole regole chiare questo lo dico perché sul piano vaccinale mi pare invece che il Soscana abbia fatto delle scelte che voglio dirlo hanno una loro logica o avevano una loro logica affidarsi ai medici famiglia vuol dire cercare un come dire una organizzazione capillare affidarla a persone di cui gli anziani si fidano che conoscono che possono andare a casa questa era la motivazione no? però bisogna anche scontrarsi poi e confrontarsi con quella che è la realtà le regioni eh le pratiche la Soscana aveva scelto questa via preferenziale bene le regioni dove sono stati utilizzati i centri vaccinali sono molto più avanti di noi questo non è un cioè voglio dire la signora Merkel che governa la Germania da qualche anno da un po' più di anni di Ciani sul lockdown è tornata indietro e non ha avuto paura a dire ho sbagliato si può dire perché si può sbagliare non è che uno ecco però su questo credo che anche le parole del premier Draghi ieri dovranno indurre tutti a partire dalla giunta regionale a rivedere a un'autorizia è una riflessione e poi anche a un cambiamento l'autorizia è utile se poi serve aggiustare le cose io sono anche convinto voglio parlare anche di altro però sono anche convinto che i medici di famiglia possono essere la capillarità dei medici di famiglia possono essere uno strumento laddove però ci sia anche dei vaccini che sono gestibili in altra maniera nel senso i vaccini influenzali vengono fatti da sempre dai medici di famiglia funzionano bene riescono a fare una campagna vaccinale però perché sono vaccini che hanno dei metodi di conservazione e di trasporto molto più semplici questi vaccini devono essere scongelati la domenica poi devono essere somministrati entro un tot di giorni quando bisogna andare a fare a domicilio bisogna aspettare ovviamente che la persona non abbia reazioni avverse insomma complica inevitabilmente la macchina tra l'altro in una regione anche morfologicamente complicata per cui ci sono comuni che sono anche molto distanti per cui un medio di famiglia deve fare molta strada insomma ci sono tante situazioni che forse con questo tipo di vaccini sta un po' complicando la situazione magari in un secondo momento come dire la strategia può anche funzionare ma per ora effettivamente i numeri parlano chiaro senta Bustolino volevo chiederle solo una cosa rispetto a quello che diceva Ciaccarelli su questo tema che riguarda Firenze lei fa il capogruppo in Palazzo Vecchio per la Lega come si sta comportando Firenze perché rispetto anche ad altre zone insomma ha retto abbastanza sulla questione del Covid nelle ultime ore però insomma alcuni focolai nelle scuole e poi insomma hanno indotto il sindaco Nardella a prendere misure anche più restrittive insomma controlli maggiori ce n'era bisogno e come si sta gestendo se andava in città dunque Firenze conta poco più di 35 mila anziani e ovviamente le ripercussioni della città sono le medesime della regione in termini di campagna per i vaccini andando nel concreto in termini di ordinanze e quindi di azioni intraprese dal sindaco io applaudo laddove si riesce ecco a intervenire laddove ci sono appunto degli assembramenti che paradossalmente ecco sembrano poi diventare ingestibili o impossibile da intervenire penso a quelli di Santo Spirito piuttosto che in altre piazze come Sant'Ambrogio e quant'altro e quindi con la logica del piede di piombo il risultato è arrivato un po' tardi ma faccio un esempio nel divieto di vendita di alcolici che è stato fatto dalle 16 in poi per il fine settimana io penso ci sia stato un pochino ecco un conto che è stato chiesto alle attività come barre e quant'altro che personalmente penso non meritino perché ovviamente la riflessione finale del cittadino che sta a casa poi non necessariamente va in piazza a bersi il drink con un amico e non si potrebbe neanche ma è quella di non capire come mai vengono limitate certe libertà personali in virtù di quattro persone che potevano essere controllate e monitorate e quindi redarguite meglio magari in precedenza c'è questa c'è questa difficoltà con l'interpretare le azioni in ardella di lì poi quello che chiediamo è un maggiore intervento una maggiore capacità di intervento di forze di polizia connesse anche a quella municipale laddove gli assemblamenti ci sono detto questo quindi non possiamo ridurci a diventare zona rossa o arrivare alla soglia per poi intervenire con misure drastiche io penso che i fiorentini abbiano dimostrato in questo anno e poco più buon senso rispetto delle normative e delle regole ovviamente non possiamo criminalizzarli se c'è il mercato delle cascine vanno al mercato delle cascine la soluzione è sempre intermedia quella estrema dove si arriva quindi a limitare eccessivamente come l'acquisto per esempio di beni e servizi a noi ci sembra un po' assurda di lì comunque a me ha fatto piacere per esempio penso non lo so chiedo poi a voi andare a santo spirito e vedere finalmente un sagrato libero dall'occupazione dei dei posteggiatori seriali lì si entra in un campo come dire di discussione molto acceso perché insomma per tempo si è parlato noi a Nardella abbiamo chiesto di rimuovere quel limite per quanto riguarda gli alcolici dopodiché perché se anche con i drink in mano vado in piazza e faccio assembramento indipendentemente dal drink o no devo intervenire certo è chiaro è chiaro senti Paolo volevo chiederti una cosa proprio rapidissimo la chiedo a te che riguarda in qualche modo anche la visione l'azione politica per quanto riguarda il sindaco di Firenze ma non solo per quanto riguarda diciamo allarghiamo la Toscana perché oggi il covid ha un po' appiattito anche ovviamente la questione interna ai partiti però la notizia politica come dire di questa settimana è evidentemente la nuova guida del Partito Democratico che insomma con Letta è partita abbastanza forte sulla Toscana con un'allusione a quel metro a quella metro politana insomma come volete chiamarla quel treno veloce tra Firenze e Pisa che però si sa e pone subito come dire la distanza invece dal tema dell'aeroporto che ormai sulle infrastrutture sono diventate due fazioni completamente distinte c'è questo oppure come dicono Nardella e Gianni in realtà era un'allusione di per sé ma l'aeroporto non ha problemi diciamo così già il fatto che abbia sollevato tutti questi problemi denuncia dall'intervista di Letta al Tirreno già denuncia il fatto che quello è un nodo irrisolto non c'era bisogno di Letta con tutto il rispetto ma chiaramente è bastata è bastata quel passaggio lì per riaccendere come dicevi della guerra tra fazioni che attenzione non è soltanto e non è più neanche Firenze contro Costa Firenze contro Pisa eccetera ma è come da tempo è dentro il PD una guerra per bande c'è la verità cioè che si incrociano con l'appartenenza territoriale ma non solo parlo del PD perché ovviamente è il partito al governo ed è erede dei partiti che hanno governato che governano da sempre la regione quindi non c'è dubbio che la responsabilità prima e primordiale sia in capo al PD è vero Letta non ha detto non sviluppate per etola c'è quel come dire ha usato la giusta dose di ambiguità per lanciare un messaggio senza truccare nessuno ma ripeto il fatto che i primi silenziosi imbarazzi poi il tentativo di una lettura diciamo che ognuno si portava a casa a casa propria prodomo sua e poi e poi soprattutto la bandiera rialzata da chi è contrario al potenzialmente di per etola cosa denunciano denunciano che se ne parla da tanto tempo che per ora non soltanto per colpa diciamo così della politica però indubbiamente che di mezzo poi c'è entrata la magistratura i tarri ricorsi eccetera ma indubbiamente ecco è un gigantesco nodo irrisolto e tutte le volte qualcuno lo tocca fa male è assolutamente così Mussolini 30 secondi perché insomma anche nella Lega almeno nei primi momenti della candidatura di Ceccardi sembrava che l'aeroporto potesse diventare divisivo a livello territoriale trasversalmente ai partiti diceva Ceccaretti io sono diventato commissario Lega Firenze a novembre del 2020 e le parole d'ordine sono state quelle del SIA alle infrastrutture aeroporto tranvia e TAV ovviamente tranvia con le accortezze e le sensibilità della Lega del centrodestra e quindi su questo binario continuiamo a procedere c'è da dire una cosa è folle sono folle due cose secondo me di Enrico Letta brevissimamente la prima durante quindi una guerra una campagna vaccinale da portare avanti portare il tema dello io soli al governo non si può in questo momento la seconda se noi chiediamo che Firenze diventi autonoma dal punto di vista finanziario per il turismo con le leggi speciali e quant'altro è impensabile non sviluppare l'aeroporto di Firenze che serve anche per accogliere più turisti detto questo quindi penso che l'uscita di Enrico Letta sia un danno a Firenze e alla sua crescita voglio chiedervi una cosa in 30 secondi devo farlo per forza ma veramente velocissimo perché siamo fuori tempo massimo oggi iniziano abbiamo titolato così perché iniziano le celebrazioni per l'anniversario della morte di Dante insomma sarà un anno importante in questo ricordo ovviamente Firenze la Toscana avrà un ruolo preeminente in questo quale insegnamento a distanza di secoli rimane più forte secondo voi di Dante Alighieri al di là dei suoi scritti che sono ovviamente patrimonio dell'umanità a me viene in mente la dico io per prima a me viene in mente che sostanzialmente tante diatribe e tante scaramucce ma anche qualcosa di più che raccontava Dante non sono poi state superate il sintomo che forse fanno parte dell'indole umana e forse in modo particolare di noi fiorentini a voi che cosa che cosa rimane qual è secondo voi l'ascito come dire di Dante che oggi è più attuale parto da Paolo Ciccarelli e poi Bussolini questo quello che dici tu è vero è anche vero perché Dante è stato un grandissimo non voglio dire cronista perché si offenderebbe mi manderebbe all'inferno ma ha raccontato un'epoca come Medioevo che è stato il laboratorio dell'Europa e dell'Italia che conosciamo quindi questo un po' io lo dico forse per deformazione professionale sarò banalotto la lingua oggi è chiaro che l'italiano non può essere quello di Dante ma la chiarezza della lingua e la conoscenza della lingua e non parlo dell'intellettuale parlo dell'italiano medio certo penso sì sì penso che noi si debba che ci sia in corso da tempo un processo di dealfabetizzazione degli italiani per tante ragioni che la lingua con la lingua non è soltanto una questione di comunicare è un patrimonio è un patrimonio culturale ma io lo dico subito non è che dico no alla lingua dei tweet i tweet twitter è uno strumento non è cioè non è che voglio fare l'antimodernista tanto per essere chiari però ecco questo non può voler dire nemmeno ridurre impoverire la lingua questo è un po' il rischio anzi dovrebbe essere proprio quello ci ha insegnato Dante cioè le influenze i cambiamenti che arrivano a arricchirla assolutamente Mussolin penso che Dante sia soprattutto relazionandomi alla Divina Commedia un viaggio interiore di speranza ma anche di rinascita è giusto l'appunto che faceva Ceccarelli in merito all'importanza della lingua del linguaggio tant'è che ovviamente la forma prima che la sostanza è la cosa che fa più impressione ecco aprendo per la prima volta la Divina Commedia un appunto importante io ho avuto un professore fortunatamente che non insegnava la Divina Commedia per dovere ma la sentiva proprio come missione e questo ha permesso anche a me da studente di assorbirla e di viverla con tutt'altra emozione quindi gli insegnanti e chi di dovere si trova a trasmettere questo sapere mi auguro che lo facciano con la stessa intensità sicuramente hanno un ruolo molto importante anche nel tramandare degli insegnamenti che sono ancora oggi molto attuali grazie mille a Paolo Ceccarelli per essere stato con noi grazie Paolo grazie a Federico Bussolino ovviamente per aver partecipato grazie a voi alla prossima in bocca al lupo e buon lavoro a tutti per averci seguito da casa terminiamo qui e ci vediamo domani buona serata a tutti grazie a tutti